Il tempo corre, il tempo scorre, Sir Stefano. Xiao chiuse la porta appena Giorgio oltrepassò l'uscio. Lo scienziato cinese era a dir poco agitato. Aveva l'aria di uno che avesse un alien nello stomaco. Per l'anagrafe aveva un paio d'anni più di Giorgio, ma quella sera sembrava superarlo di almeno due decadi. Capilli scompigliati, occhi arrossati, barba incolta. Indossava il camice bianco che solitamente si usa durante i test in laboratorio. Gli cadeva largo, manco fosse un lenzuolo. Era di costituzione gracile, ma ora rasentava lo scheletrico. Giorgio pensò che doveva essersi gettato a capofitto in chissà quale nuova dissertazione scientifica, rimanendone assorbito a tal punto da dimenticare di nutrirsi adeguatamente. «Da quant'è che non mi vedi all'università?» chiese saltando a piepari qualsiasi convenevole. Giorgio si concentrò sulla domanda, cercando di non fare caso all'aspetto del collega e a una sensazione persistente di décevée. Non era la prima volta che Xiao spariva per poi ricomparire con nuove e brillanti intuizioni, ma mai lo aveva visto in quello stato. «Un paio di settimane, credo», disse. «Ma perché mi hai detto di venire a casa tua? A quest'ora, poi?» Xiao si girò e si mise le mani nei capelli. «L'ora? Che vuoi che importi, l'ora? Troppo pericolo, là! Troppa gente! Troppo pericolo, là! Troppa gente! E poi non è ancora perfetto. Non riesco a controllarlo. Mi stai facendo preoccupare, Xiao. Cosa? Non è perfetto. Cosa devi controllare?» Il cinese si girò di scatto verso di lui. «Vieni, faccio prima a mostrartelo». Il soggiorno era nel caos. Vestiti e oggetti abbandonati ovunque. La cucina non era messa meglio. Un vago odore di toast bruciati alleggiava persistente nell'aria. Lo fece sedere all'estremità del tavolo rettangolare. Lo fece sedere all'estremità del tavolo rettangolare. Giorgio notò subito una scatola bianca con un buco ellittico su tutti i lati. Sembrava il subwoofer dell'auto che usava da giovane. Xiao ci trafficò sopra premendo vari pulsanti. Si mordeva forse innatamente il labbro. «Bene», disse. Diede sbrigativamente una matita in mano a Giorgio. Si sedette dalla parte opposta del tavolo. «Lanciami la matita», disse, eccitato come uno scollaretto. «Cosa, cosa?» «Dai, poi capirai. Lanciami la matita!» La secondò. Per un attimo pensò di tirargliela sul viso. Poi decise di gettarla verso il petto del collega. La matita disegnò un arco nell'aria, impattò il tavolo con la grafite e rotolò fino a pochi centimetri dal bordo. «L'hai lanciata?» chiese apprensivo Xiao. Giorgio iniziò a innervosirsi. «Certo che l'ho lanciata. Non la vedi? Sei cieco?» La matita non c'era più sul tavolo. Guardò intorno per vedere dove fosse finita. La vide nella propria mano, il braccio ripiegato in procinto di lanciarla. «Ma che diavolo?» disse smarrito. «Dislocazione temporale!» «Eh!» «La zona è ristretta, per fortuna. E il tempo ha corretto se stesso, capisci?» «Il tempo ha corretto se stesso!» Giorgio stava ancora lì, con la matita sospesa a mezz'aria. Si costrinse a ragionare con mente scientifica. «Mi stai dicendo che hai fatto tornare indietro il tempo?» Xiao sembrava disperato. «Io volevo bloccarlo!» «Bloccarlo!» «Ma il tempo è bastardo!» «Perché, se lo fermi, nessuno se ne accorge!» «Allora ti chiedi se si sia fermato veramente!» «Per questo mi servivi tu!» «Ma il tempo è anche nullo, perché non esiste un prima e un dopo!» «E così, quello che per te è presente, per me è prima o dopo! Ho un circolo infinito, un loop!» «Non è possibile!» esclamò incredulo. «Ma se c'era qualcuno che poteva farlo, lo aveva proprio di fronte!» Xiao aveva un approccio avvenieristico alla fisica. «Possibile! Reale!» «Te l'ho appena dimostrato!» disse la giante. «Ma non riesco a tenerlo!» «Ma non riesco a tenerlo!» «Ma non riesco a tenerlo!» «Alcune volte la zona è localizzata!» «Riesco a notare l'anomalia!» «Altre volte non vedo niente!» «Suppongo che abbia un raggio più ampio!» «Che includa anche me!» «La maggior parte delle anomalie durano pochi secondi!» «Altre!» 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 «Mi sa che ho combinato un casino!» fisso a Giorgio preoccupato. «Secondo la mia stima temporale!» «Secondo una!» «È solo un paio di giorni che non vengo all'università!» «E tu mi dici una settimana!» «Stai giocando col fuoco!» «Xiao!» «Spegnilo!» «Spegnilo subito!» «Indicò la scatola bianca sul tavolo!» «Spegnerlo!» «La sua risata raggelò Giorgio!» «Se esisteva un suono che riproducesse l'instabilità mentale, sarebbe stato sicuramente quello!» «La sua risata raggelò Giorgio!» «Spegnerlo!» «È spento!» «Lo acceso solo una volta!» «Solo una volta!» «Ma cosa vuoi che significa accendere o spegnere?» «Fare azioni, spegnere, fare azioni, spegnere, fare azioni, agire!» «Se il tempo è sballato!» «Se non c'è più il tempo!» «Tempo!» Giorgio si alzò di scatto dalla sedia. La sedia finì a terra con un tonfo. Giorgio si alzò di scatto dalla sedia. La sedia finì a terra con un tonfo. Improvvisamente ebbe una consapevolezza. «Io sono, sono, sono già stato qui!» «Tutto questo è già successo!» 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 «Tutto questo è già successo!»